Cosa dicono i dati per quanto riguarda il collocamento dei disabili nel 2018? I dati sono molto positivi, abbiamo aumentato gli avviamenti delle persone con disabilità del 13% per cui la nostra è una soddisfazione. Inoltre i dati hanno visto anche la nascita di importanti progetti, di collaborazioni territoriali. Mi riferisco al progetto Tecnortus con l'azienda Tecnoprobe, la cooperativa Paso. Mi riferisco inoltre al progetto Disability Manager che ci sarà presto un convegno conclusivo e la collaborazione con gli ambiti per la gestione del REI, cioè il reddito di inclusione che ha permesso di gestire in maniera coordinata questa misura e che ci auspichiamo possa proseguire per il futuro. In sintesi quindi un anno positivo e grazie innanzitutto alla collaborazione di tutta l'equip del centro per l'impiego e del collocamento mirato perché il nostro è un lavoro di squadra. Da punto di vista numerico? Allora sono stati 563 gli avviamenti al lavoro e complessivamente abbiamo avuto oltre 500 tirocini di cui 309 di adozione, cioè quei tirocini particolarmente rivolti alle persone con molte difficoltà. Inoltre un dato significativo è stato quello che il 75% degli avviamenti al lavoro effettuati nel 2017 sono continuati nel 2018. Questo è un dato importante perché significa che gli avviamenti sono stati mirati appunto come devono essere per le persone con disabilità. Un anno positivo che tra l'altro si inserisce in altri anni positivi perché ogni anno c'è questo miglioramento, ogni anno si fanno queste performance e sono tutte finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso vari strumenti, dalle borse sociali lavoro, alle convenzioni, ai tirocini, agli accordi con le associazioni, con le parrocchie, con i comuni. Quindi un anno buono perché siamo in evoluzione positiva rispetto agli inserimenti lavorativi.